Capitolo 2 Una cavalcata nella riserva Traversato il fiume, giunsi alla riserva Masai in meno di un quarto d'ora. Avevo impiegato molto tempo quando mi ero stabilita la fattoria per trovare un punto dove guadare il fiume a cavallo. L'ascesa era tutta sassi, la salita ripida, ma una volta là come anela alla gioia lo spirito deliziato. Ci si aprivano dinnanzi miglia e miglia per galoppare, prati, campi ondulati senza un recinto di canne, né un fossato né una strada. Non c'erano case, se non quelle dei villaggi Masai, che per metà dell'anno, quando quei nomadi instancabili partivano con tutte le loro greggi per cercare altri pascoli, restavano abbandonate. Qua e là, nella pianura, a intervalli regolari, si incontravano sterpeti e lunghe valli profonde con i letti dei fiumi dissecati, sparsi di grosse pietre piatte. Per attraversarli bisognava cercare i sentieri dei cervi e dei caprioli. Dopo un breve tratto, si diveniva consci di come tutto era quieto, qui. Su questo feci una strofa. Attraverso la pianura, l'erba alta fugge davanti all'aria che spira. Nella solitudine, la pianura, il vento e il cuore giocano insieme. Ora, ripensando alla mia vita in Africa, la vedo come l'esistenza di chi, da un mondo sempre frettoloso e pieno di chiasso, arriva nel mondo della quiete. Poco prima delle piogge, i masai danno fuoco all'erba secca. Traversare le pianure brune e deserte, allora, diventa sgradevole. La cenere nera si solleva sotto gli zoccoli dei cavalli, penetrando dappertutto, perfino negli occhi. Le stoppie bruciate, taglienti come il vetro, feriscono le zampe dei cani. Ma quando cominciano le piogge, l'erba è fresca e verde nelle pianure. Sembra di camminare sulle molle e il cavallo fa un po' il matto per il piacere. Gazzelle di tutte le razze vengono a pascolare sui prati come giocattoli su una tavola da biliardo. A volte capita di finire in mezzo a un branco di antilopi. I pacifici, maestosi animali ti lasciano avvicinare e poi filano via trottando. Le lunghe corna ondeggianti all'indietro, il collo eretto, gli ampi penduli pettorali che li fanno sembrare quadrati e oscillano ad ogni passo. Si direbbero usciti da un antico epitaffio egiziano. Ma negli epitaffi hanno finito di arare e lì perciò hanno un aspetto familiare e domestico. Le giraffe più riservate preferiscono starsene lontane. A volte, il primo mese delle piogge, c'è una così ricca fioritura di garofani bianchi e profumati che le pianure di lontano sembrano pezzate di neve. Dal mondo degli uomini passavo in quello degli animali. La tragedia della notte mi pesava sul cuore. I vecchi, seduti in attesa davanti alla mia casa, mi avevano dato un senso di disagio. Qualcosa di simile doveva provare un tempo chi pensava di essere vittima di una malia o immaginava che proprio in quel momento una strega stesse infilandosi sotto le vesti un bamboccino di cera per battezzarlo col tuo nome. I miei rapporti con gli indigeni nelle questioni legali della fattoria erano di natura strana, ma non potevo evitarli se volevo la pace nelle mie terre. Una lite non risolta fra gli squatters poteva diventare come le piaghe che in Africa chiamano piaghe erbose che sopra si rimarginano ma sotto continuano a soppurare. Il solo rimedio in quei casi è aprirle e togliere il marcio fino in fondo. Anche gli indigeni se ne rendevano conto e quando volevano veramente risolvere una questione mi chiamavano a dare il mio giudizio. Ignorante com'ero delle loro leggi, in quelle grandi corti di giustizia facevo spesso la figura della prima donna che non ricorda una sola parola della sua parte e deve farsi suggerire le battute dagli altri attori. Compiti che i miei anziani assolvevano con grande tatto e pazienza. A volte invece ero la prima donna che ha subito un affronto e disgustata della parte che deve recitare si rifiuta di continuare e abbandona la scena. In questi casi il mio pubblico considerava il mio gesto un brutto colpo del destino. Un atto di Dio superiore alla loro comprensione ci riflettevano sopra in silenzio sputtando tabacco. L'Africa e l'Europa hanno della giustizia due idee diverse, incompatibili fra loro. Per l'africano c'è un solo modo di controbilanciare le catastrofi dell'esistenza, dare qualcosa in cambio. I moventi di un atto non contano per lui. Se hai aspettato il tuo nemico per tagliargli la gola nel buio o se, mentre abbattevi un albero, un pazzo è passato sotto e ci ha rimesso la pelle, rispetto alla punizione non fa differenza agli occhi degli indigeni. La comunità ha subito una perdita e deve essere risarcita in qualche modo da qualcuno. L'indigeno non perde tempo a spremersi il cervello per pesare meriti e colpe, ha paura forse di essere condotto troppo lontano, oppure pensa che queste cose non spetti a lui giudicarle. Invece, con ragionamenti capziosi e interminabili, cerca di trovare il modo di valutare in pecore o capre il delitto o il disastro che sia. Il tempo non conta per lui. Ti conduce solennemente in un sacro labirinto di sofismi. Tutto questo, allora, era contrario alle mie idee della giustizia. Il cerimoniale è identico per tutti gli africani. I somali hanno una mentalità molto diversa dai kikuyu e li disprezzano profondamente, ma si comportano esattamente come loro in patria, quando devono giudicare un omicidio, un ratto, una frode contro le loro bestie, i loro amati cammelli e cavalli, di cui portano scritto in cuore il nome e il pedigree. Una volta, Aburamur, il fratellino di Farah, un bambino di dieci anni, tirò un sasso contro un bambino di un'altra tribù, rompendogli due denti. I rappresentanti delle due tribù, allora, cominciarono a tenere riunioni in casa di Farah. Discussero per notti e notti, seduti per terra. Venivano vecchi, magri, col turbante verde che erano stati alla Mecca. Giovani somali, pieni di arroganza, che quando non si occupavano di cose veramente serie, facevano i portatori nelle spedizioni di caccia europee. E i bambini, dalle faccine paffute e gli occhi neri, che timidi come erano, dovevano rappresentare le loro famiglie. E non dicevano mai una parola, ma ascoltavano devotamente per imparare. La cosa veniva considerata tanto grave, mi disse Farah, perché il bambino era deturpato. Da grande, forse, non gli sarebbe stato facile sposare una ragazza bella e nobile come la voleva lui. Alla fine fu stabilita una penale di 50 cammelli, cioè mezza dote. La dote intera era 100 cammelli. Le bestie vennero comprate in Somalia. Di lì a dieci anni sarebbero servite a pagare il prezzo di una fanciulla somala, che avrebbe dovuto chiudere gli occhi sui due denti di meno del suo sposo. Chissà se non venivano gettate così le basi di una vera tragedia. Quanto farà, ritenne di essersela cavata a buon prezzo. La mia concezione della legge per gli indigeni era incomprensibile. Se subivano una disgrazia, venivano prima di tutto da me per il risarcimento. Una volta, durante la raccolta, One Boy, una ragazza a Kikuyu, fu investita nei pressi della mia casa, da un carro di buoi e morì. I carri servivano a portare il caffè giù al mulino e avevo proibito a chiunque di montarci. Altrimenti ogni volta, giovani mietitrici e bambini si sarebbero fatti scarrozzare allegramente su e giù per la fattoria, a passo di lumaca, chiunque può camminare più svelto dei buoi e le bestie si sarebbero stancate troppo. Ma i giovani non sapevano dir di no alle ragazze dagli occhi sognanti, che le rincorrevano implorandoli di conceder loro quel gran piacere. Al massimo avevano la prudenza di farle saltar giù quando arrivavano in vista della casa. One Boy, nel salto, perse l'equilibrio e cadde. La ruota passò sulla sua testa nera schiacciandole il cranio. Dietro al carro rimase una piccola striscia di sangue. Mandai a chiamare il padre e la madre, che accorsero dai campi. Piansero, si disperarono. Per loro rappresentava una terribile perdita in tutti i sensi. One Boy era in età da marito. La sua dote avrebbe portato i due vecchi pecore, capre e qualche giovenca. Dal giorno della sua nascita non avevano atteso altro. Mi chiedevo cosa dovessi fare, ma mi prevennero esigendo con gran foga un risarcimento per la loro sventura. No, dissi, io non pagavo. L'avevo detto alle ragazze della fattoria che non dovevano montare sui carri. Lo sapevano tutti. I vecchi annuirono. Erano perfettamente d'accordo su questo punto, ma continuavano a pretendere ad ogni costo un risarcimento. Qualcuno deve pagare, dicevano. Avevano i loro principi e non potevano ammettere che fossero errati. Come non avrebbero potuto ammettere la teoria della relatività. Quando cercai di tagliar corto e di voltare le spalle, mi si misero alle calcagna, ma non per cupidigio o per rancore. Ero come un magnete, una legge di natura. I due poveretti si sedettero davanti alla casa, magri, denutriti. Parevano una coppia di tassi sul prato. Rimasero là fin dopo il tramonto. Distinguevo appena le loro figure contro l'erba. Erano profondamente disperati. La morte della figlia e la perdita economica fondevano in un'unica schiacciante sventura. Farah quel giorno si trovava in città. Quando venne l'ora di accendere le lampade, non potei fare a meno di mandare loro i soldi perché si comprassero da mangiare una pecora. Fu una mossa sbagliata. Prendendola come il primo segno della capitolazione di una città assediata, si disposero ad aspettare tutta la notte. Forse non se ne sarebbero andati mai più se ad un tratto non avessero avuto l'idea di esigere i danni dal giovane che aveva guidato il carro. A quel punto si alzarono e sparirono d'un tratto, senza una parola. La mattina dopo erano ad Agoretti, dal commissario del nostro distretto. Ebbe inizio così un lungo processo per omicidio e molti giovani poliziotti indigeni pieni di arie vennero alla fattoria per indagare. Da principio, per amore dei due vecchietti, il commissario era disposto persino a impiccare il conducente del carro. Ma poi, esaminate tutte le prove, ci rinunciò. Gli anziani da parte loro, visto che né io né lui volevamo continuare ad occuparci della faccenda, si rifiutarono di tenere un chiama. Così, tutto sommato, i due vecchi dovessero sottomettersi ad una legge di relatività di cui, come tanti altri, non capivano un'h. A volte mi stancavo dei miei anziani del chiama e non avevo pelli sulla lingua. Voi vecchi mettete tante e molte ai giovani per farli restare senza un soldo. Per colpa vostra sono sempre al verde e voi potete comprarvi tutte le belle ragazze. I vecchi ascoltavano attentamente gli occhietti neri scintillanti nei visi disseccati e rugosi, le labbra sottili che si muovevano piano come se ripetessero le mie parole. Erano felici di sentire esprimere una volta tanto un principio eccellente. Pur essendo ben lontana dal condividere le opinioni dei chicuiu, la mia funzione di giudice mi offriva molte possibilità e ci tenevo. Ero giovane allora e avevo meditato sui principi di giustizia, ma sempre dal punto di vista di chi è giudicato. Non ero mai stata sul seggio del giudice. Mi davo molto da fare per giudicare equamente e per avere la pace nella fattoria. A volte, quando si trattava di questioni complesse, dovevo prendere tempo per riflettere. Mi ritiravo e non davo ascolto a nessuno. Chiudendomi dietro una specie di paraocchi mentale era una mossa che faceva sempre effetto sulla gente della fattoria. Dopo molto tempo parlavano ancora con rispetto del caso tanto complicato che nessuno aveva potuto districarlo in meno di una settimana. Per far sempre colpo sugli indigeni basterebbe impiegare in ogni cosa più tempo di quanto ne impiegherebbero loro. Ma purtroppo non è tanto facile. Il fatto che gli indigeni mi chiamassero come giudice ed essero valore al mio verdetto era una conseguenza della loro mentalità mitologica e teologica. Gli europei hanno perso la facoltà di creare miti e dogmi e per soddisfare questo bisogno umano devono ricorrere al retaggio del passato. La mente dell'africano, invece, si muove con facilità e naturalezza per quei sentieri profondi e oscuri. Un dono che si nota subito nei loro rapporti con i bianchi basta sentire i nomi che mettono agli europei. Nomi che è giocoforza imparare se si deve mandare un messaggio a mano ad un amico o se si vuole trovare la strada di casa sua. Il mondo indigeno non li conosce in altro modo. Un mio vicino poco socievole che non riceveva mai ospiti in casa sua venne chiamato Sahane Moggia un solo coperto. Il mio amico svedese Erik Otter era Resase Moggia cioè colui a cui basta una sola cartuccia per colpire il bersaglio. Nome Lusinghiero immagino per chi lo portava. Un appassionato automobilista era mezzo uomo mezzo macchina. Quando gli indigeni danno ai bianchi i nomi di animali il pesce la giraffa il toro grasso la loro mente segue i sentieri delle antiche fiabe e quei bianchi nella loro coscienza oscura sono probabilmente uomini e animali allo stesso tempo. Esiste una magia delle parole. Chi per un anno è stato conosciuto da tutti col nome di un animale finisce per sentirci si legato per riconoscersi in esso. Gli sembra strano tornando in Europa che nessuno se ne renda conto. Una volta allo zoo di Londra rividi un vecchio funzionario governativo in pensione che in Africa chiamavano Buonatembo il signore elefante stava tutto solo davanti al recinto degli elefanti immerso in profonda meditazione forse ci andava spesso per i suoi domestici indigeni ciò sarebbe rientrato nell'ordine naturale delle cose ma probabilmente nessun altro in tutta Londra tranne me straniera di passaggio l'avrebbe capito. La mente degli indigeni segue strane vie ed è legata a quella di popoli scomparsi per cui era naturale immaginare che Odino per vedere attraverso il mondo desse via un occhio e che rappresentavano il dio dell'amore come un fanciullo completamente ignaro dell'amore per i chi cui forse ero un così gran giudice perché non dovevo assolutamente nulla sapere delle leggi secondo le quali dovevo giudicare con loro dono per i miti gli indigeni possono agire su di te in un modo contro cui non vale né difesa né fuga possono trasformarti in un simbolo capivo perfettamente come ci arrivassero e avevo un termine per indicarlo entro di me dicevo che mi stavano considerando il loro serpente di bronzo gli europei vissuti molto tempo con gli indigeni capiranno cosa intendo anche se la parola non è usata come vorrebbe la bibbia malgrado tutte le nostre iniziative malgrado il processo scientifico e meccanico da noi portato malgrado la stessa pax britannica questo credo è il solo uso pratico che gli indigeni abbiano fatto di noi non di tutti i bianchi naturalmente non sempre allo stesso modo nel loro mondo ci attribuivano un rango più o meno elevato a seconda della nostra utilità come serpenti di bronzo molti dei miei amici Dennis Finch Hutton Galbraith e Berkeley Cole Sir Northrop Macmillan avevano in questo senso una posizione di primo piano fra gli indigeni Lord Delamere era un serpente di bronzo dei più potenti una volta ricordo feci un viaggio sugli altipiani nei periodi in cui il grande flagello delle cavallette aveva invaso i campi c'erano state anche l'anno prima ora la loro progenie piccola e nera riappariva per divorare tutto quello che era rimasto non restava un solo filo d'erba al loro passaggio per gli indigeni era una vera sciagura difficile da sopportare con quello che avevano già sofferto disperati ansavano gemevano come cani moribondi si sbattevano la testa contro il muro del vuoto per caso raccontai di essere passata per la fattoria di Delamire e di aver visto anche lì le cavallette dappertutto sui prati e sui pascoli Delamire era fuori di sedisi allora di colpo si calmarono parevano improvvisamente sollevati mi pregarono solo di ripetere due o tre volte le parole di Lord Delamire come serpente di bronzo io non avevo altrettanto prestigio tuttavia in alcune occasioni fui ugualmente utile agli indigeni durante la guerra quando la sorte del corpo ausiliario dipendeva dal mondo indigeno i miei squatters venivano sempre a sedersi intorno a casa mia muti non mi toglievano gli occhi di dosso facevano di me il loro serpente di bronzo non potevo accusarli di nulla e dovevo lasciarli stare del resto anche se li avessi costretti ad allontanarsi sarebbero andati a sedersi un po' più in là dava una strana sensazione di disagio io per fortuna avevo un modo di sentirne meno il peso il reggimento di mio fratello si trovava in quei giorni nelle trincee di prima linea a Vimy potevo fissare il mio sguardo su di lui trasformandolo nel mio serpente di bronzo quando sulla fattoria si abbatteva una grande sventura i Kikuyu mi prendevano come prima prefica donna del dolore così avrebbero fatto anche ora per l'incidente della fucilata siccome c'ero io a soffrire per i bambini si sentivano autorizzati a mettere per il momento la faccenda da parte e a lasciarla in pace nelle disgrazie diventavo ai loro occhi quello che il prete è per i fedeli colui che vuota il calice da solo ma in nome di tutti c'è questo nella stregoneria quando si è avuta addosso una volta non ce ne si libera mai del tutto vivere appesa a un palo era per me una cosa penosa penosissima avrei voluto poterne fare a meno eppure molti anni più tardi a volte mi sorprendevo a pensare essere trattata così proprio io io che sono stata un serpente di bronzo mentre traversavo il fiume per tornare alla fattoria incontrai un gruppetto di tre giovani e un bambino erano figli di canino camminavano svelti armati di lance chiesi se sapevano qualcosa di Cabero il loro fratello si fermarono con l'acqua quasi alle ginocchia i visi decisi gli occhi bassi risposero lentamente che Cabero non era più tornato non avevano saputo più nulla di lui da quando era fuggito la notte prima ormai erano sicuri che fosse morto doveva essersi ucciso dalla disperazione l'idea del suicidio è molto naturale per gli indigeni compresi i bambini oppure si era perso nella macchia e le bestie feroci l'avevano divorato dopo averlo cercato in tutte le direzioni i fratelli stavano andando nella riserva per vedere se lo trovavano là quando arrivai dall'altra parte del fiume mi volsi a guardare la pianura la fattoria era più in alto rispetto alla riserva non si scorgeva segno di vita laggiù solo le zebre lontanissime pascolavano galoppando qua e là appena sboccata dalla macchia dall'altro lato del fiume la compagnia dei cercatori proseguì veloce in fila indiana l'esile gruppetto pareva un bruco che avanzasse rapido e sinuoso fra l'erba il sole brillava a tratti sulle loro armi sembravano sicuri della direzione ma quale? nella ricerca del bambino smarrito la loro sola guida potevano essere gli avvoltoi che volteggiano sempre nel cielo sopra i cadaveri e indicano il punto esatto della strage del leone ma quella volta sarebbe stato solo un piccolo corpicino non un gran banchetto per i ghiottoni dell'aria sarebbero venuti in pochi e non avrebbero sostato a lungo era un pensiero triste tornai a casa capitolo 3 huamai andai al chiama assieme a farà quando dovevo trattare quel chicuiu lo portavo sempre con me infatti mentre nei suoi affari privati non dimostrava molto buon senso e come tutti i somali se erano in gioco gli interessi della sua tribù perdeva la testa nelle questioni altrui era pieno di tatto e di saggezza e fra l'altro mi faceva da interprete perché parlava benissimo su ahili quel processo lo sapevo già prima di andarci mirava soprattutto a spogliare canino fino alla camicia si sarebbe visto portare via le sue pecore da tutte le parti sia per risarcire la famiglia del bambino morto e quella del ferito sia per pagare il chiama tutto ciò a priori non mi andava giù canino aveva perso anche lui un figlio come gli altri e la sorte del suo bambino sembrava la più tragica huamai era morto e ormai fuori causa huamai angheri era affidato alle cure dei medici dell'ospedale ma cabero era stato abbandonato da tutti e nessuno sapeva dove giaccessero le sue ossa canino d'altronde si prestava benissimo al ruolo di bue messo all'ingrasso per un banchetto era uno dei più ricchi fra i miei squatters proprietario di 35 capi di bestiame 5 mogli e 60 capre il suo villaggio era vicino al mio bosco e capre e bambini ronzavano sempre intorno alla fattoria quanto alle sue donne dovevo continuamente arrestarle perché mi tagliavano gli alberi i chicui ignorano il lusso i ricchi vivono come i poveri e nella capanna di canino non c'era mobilio tutt'al più uno sgabello di legno ma di capanne ce n'erano parecchie nel suo villaggio e intorno un vivace sciame di vecchie giovani e bambini una lunga fila di vacche tornava al tramonto per la mongitura proiettando sull'erba una mobile ombra azzurrastra tutto ciò conferiva al vecchio dal mantello di cuoio e dal viso scuro furbo solcato di fitte rughe piene di sporcizia laureola ortodossa di un nababo della fattoria io e canino avevamo litigato parecchie volte l'avevo perfino minacciato di cacciarlo dalle mie terre in seguito ad un suo traffico poco pulito essendo in buoni rapporti con i vicini masai era riuscito a maritare quattro o cinque figlie nella loro tribù un tempo da quella gente guerriera il matrimonio con un kikuyu veniva considerato una degradazione ma ora il loro popolo si stava esaurendo e dovevano abbassare le penne le donne masai non facevano figli e le giovani prolifiche kikuyu erano molto richieste in cambio delle sue fiorenti ragazze il mio scuoter si era portato a casa parecchie giovenche lucenti e chiassone più di un pater familias kikuyu in quel periodo si arricchì con lo stesso sistema il grande capo dei kikuyu kinanjui aveva mandato pare più di venti figli ai masai ottenendo in pagamento un centinaio di cape di bestiame ma un anno prima la riserva masai era stata messa in quarantena per un'epidemia di afta epizotica era proibito far uscire il bestiame kaninu si trovò così in un grave dilemma i nomadi masai cambiano sede a seconda delle stagioni delle piogge dei pascoli le vacche che per legge appartenevano a kaninu venivano trascinate da un posto all'altro a chilometri e chilometri di distanza che sarebbe stato di loro i masai non hanno tanti scrupoli nel commercio del bestiame soprattutto con i kikuyu che disprezzano bravi guerrieri e pare grandi amatori nelle loro mani il cuore delle figlie di kaninu mutava come il cuore delle antiche sabine sapendo di non potersi fidare il vecchio kikuyu sempre pieno di risorse cominciò a portare le sue bestie alla fattoria attraverso il fiume di notte quando il commissario del distretto e gli impiegati dell'istituto di igiene dormivano era una vera furfanteria perché le leggi della quarantena sono fra le poche che gli indigeni non solo capiscono ma rispettano veramente se le vacche fossero state trovate sulla mia terra tutta la fattoria sarebbe stata messa in quarantena dovetti quindi mettere degli uomini di guardia giù al fiume per cogliere in flagrante gli inviati di kaninu nelle notti di luna ci furono molte imboscate drammatiche e fughe veloci lungo il fiume argenteo mentre le giovenche oggetto dell'interesse generale zampettavano e correvano di qua e di là giogona il padre del piccolo uomai il bambino ucciso era invece un uomo poverissimo aveva una moglie sola vecchia e non possedeva altro al mondo che tre capre né c'era speranza che col suo animo semplice potesse migliorare la propria condizione lo conoscevo bene un anno prima dell'incidente c'era stato alla fattoria un grave delitto due indiani che avevano preso in affitto un mulino vicino al fiume e macinavano il grano turco per i chicui erano stati derubati e uccisi durante la notte gli assassini non furono trovati mai il delitto spaventò tutti i commercianti e i bottegai indiani del distretto che scomparvero come spazzati da una tempesta per far restare pur anzinga il mio mulino dovetti armarlo di un vecchio fucile ma anche così non fu facile persuaderlo a non scappare io stessa la prima notte dopo il delitto credetti di sentire dei passi intorno alla casa e per una settimana teni di guardia un indigeno giogona per l'appunto mite com'era non avrebbe potuto fare molto contro degli assassini ma era simpatico e mi piaceva parlare con lui aveva i modi di un ragazzo festoso il viso largo dall'espressione intensa ispirata ogni volta che mi guardava si metteva a ridere anche ora pareva molto contento di vedermi al chiama ma persino il corano che stavo studiando proprio in quei giorni dice non piegherai la giustizia della legge per amore del povero oltre a me almeno un altro membro dell'assemblea si rendeva conto che lo scopo del chiama era di scorticare canino canino stesso seduti in cerchio gli altri vecchi chiamavano a raccolta tutta la loro intelligenza e la loro capacità di osservazione canino per terra si era tirato sul capo il mantello di cuoio ed emetteva di tanto in tanto un gemito o un uggio come un cane esausto per il troppo ululare capace ormai solo di tenere destra la propria miseria volevano gli anziani che si principiasse dal caso di wyangherry il bambino ferito lì c'era materia di discussione all'infinito quale sarebbe stato l'indenizzo se il piccolo moriva e se restava sfigurato di questo non intendevo discutere finché non fossi andata a Nairobi per parlare col medico dell'ospedale feci dire a farà dovettero digerire la delusione e si disposero ad affrontare l'altro argomento ero venuta al chiama dichiarai per appianare al più presto la questione non potevamo covarla fino alla fine dei nostri giorni non si trattava di un delitto questo era chiaro ma di un doloroso incidente il chiama mi onorò di tutta la sua attenzione ma appena ebbe finito il mio discorso si dichiarò subito contrario noi non sappiamo nulla di nulla Amsabu dissero ma ecco vediamo che neppure tu sai nulla e di quello che dici comprendiamo ben poco è stato il figlio di Canino a sparare la fucilata altrimenti come mai solo lui non sarebbe stato ferito se vuoi sapere meglio come sono andate le cose senti quello che racconta Mauge c'era anche il figlio suo e il colpo gli ha portato via un orecchio Mauge era uno degli squatters più ricchi in un certo senso il rivale di Canino aveva un aspetto solenne e pesava ogni parola benché parlasse molto lentamente interrompendosi spesso per riflettere un sabo disse mio figlio mi ha detto tutti i bambini uno alla volta hanno avuto in mano la carabina e la puntavano contro Cabero ma Cabero non volle spiegare come si sparava no non voleva assolutamente spiegarlo alla fine si riprese la carabina e nello stesso istante quella sparò ferendo tutti i bambini e uccidendo Guamai il figlio di Giogona questo è esattamente quanto è successo sapevo già tutto dissi ed è appunto una disgrazia un incidente avrei potuto essere io a sparare da casa mia o tu stesso Mauge da casa tua le mie parole crearono una grande agitazione nel chiama tutti guardarono Mauge che cominciò a sentirsi a disagio poi parlarono per un pezzetto fra di loro sottovoce quasi bisbigliando e alla fine ripresero la discussione Mzabu dissero questa volta non comprendiamo una sola parola di ciò che dici forse stai pensando ad un fucile da caccia tu col fucile da caccia sai sparare bene ma con la carabina no se fosse stato un fucile di caccia avresti avuto ragione ma non si può sparare con una carabina da casa tua o da casa di Mauge e uccidere uno che è in casa del Buona Menania dissi dopo una breve pausa tutti tutti sanno che è stato il figlio di Canino a sparare Canino pagherà a Giogona un certo numero di pecore per compensarlo della perdita ma tutti sanno anche che il figlio di Canino non era un cattivo ragazzo e non voleva uccidere Wamai quindi Canino non deve pagare tante pecore quante avrebbe dovuto pagarne in quel caso qui qui prese la parola il vecchio Awaru che avendo fatto sette anni di prigione capiva meglio degli altri le sottigliezze della civiltà Nsabu disse tu sostieni che il figlio di Canino non era cattivo e che quindi Canino non deve pagare tante pecore ma se suo figlio avesse voluto uccidere Wamai e quindi fosse stato un ragazzo molto cattivo per Canino sarebbe forse stato un bene gli avrebbe fatto tanto piacere che avrebbe pagato molte più pecore Awaru dissi tu sai che Canino ha perso suo figlio anche tu vai a scuola e quindi sai che Cabero era bravo se era altrettanto bravo nelle altre cose è una grande disgrazia per Canino averlo perso ci fu un grande silenzio si sarebbe sentita volare una mosca alla fine come si ricordasse improvvisamente un dolore o un dovere dimenticato Canino e mise un lungo gemito Mem sahib disse Farah lascia che ora questi chicuiu dicano la cifra che hanno in cuore lo disse in suahili perché capissero tutti e riuscì a metterli a disagio una cifra è una cosa concreta e a nessun indigeno piace dirla Farah lasciò errare lo sguardo sui presenti suggerendo con piglio sprezzante cento cento pecore erano una cifra fantastica nessuno avrebbe potuto prenderla sul serio il chiama cadde nel silenzio sentendosi alla merced del sarcasmo somalo i vecchi preferivano non esporsi un vecchione bisbigliò cinquanta ma sembrò che la parola non avesse peso e volasse via soffiato dall'ironia di Farah finalmente con la prontezza e la furbizia di un mercante che sa destreggiarsi fra cifre e bestie Farah disse quaranta la cifra fu come una pioggia rinfrescante sulle idee sopite del congresso cominciarono a chiacchierare vivacemente fra loro ora avevano bisogno di tempo sarebbero stati chissà quanto a parlare a riflettere ma la base delle trattative era gettata quando tornamo a casa Farah mi disse con fiducia credo che accetteranno quaranta pecore Caninu ebbe da sopportare un'altra prova al chiama il vecchio e panciuto Categu un altro ricco squatter della fattoria con un'enorme sequela di figli e nipoti propose di passare in rivista le pecore e le capre di Caninu per scegliere una per una quelle che doveva dare una cosa simile era contraria alla tradizione del chiama e Giogona non sarebbe mai stato capace di inventarla evidentemente era frutto di un accordo fra Categu e Giogona a tutto vantaggio di Categu aspettai di vedere come andava a finire Caninu tanto per cominciare accettò la palma del martirio abbassava il capo gemendo come se ad ogni animale designato gli cavassero un dente ma quando alla fine Categu esitando lui stesso indicò una grossa capra gialla senza corna a Caninu si spezzò il cuore mancò la forza si fece avanti scostando con gesto maestoso il mantello prima mughiò come un toro verso di me un muggito che chiedeva aiuto un de profundis che incuteva spavento ma gli bastò una rapida occhiata per capire che ero dalla sua parte e che non avrebbe perso la sua capra gialla allora si sedette in silenzio lanciando a Categu un'occhiata piena di sarcasmo dopo circa una settimana di sedute e sedute supplementari il chiama fissò finalmente l'indenizzo canino avrebbe pagato a Giogona 40 pecore ma Giogona non aveva il diritto di sceglierne nemmeno una 15 giorni più tardi una sera mentre stavo cenando farà venne a darmi le ultime notizie il giorno prima mi disse erano venuti alla fattoria tre vecchi chicui o dinieri la storia del processo era giunta fino alle loro capanne e si erano messi in viaggio per presentarsi al chiama e dimostrare che Wamai non era figlio di Giogona ma del loro fratello minore e che quindi il compenso per la sua morte spettava di diritto a loro sorrisi di tanta impudenza osservando che era un gesto proprio degno dei chicui o dinieri no disse Farah pensoso secondo lui avevano ragione effettivamente Giogona era venuto da nieri sei anni prima e stando alle informazioni che Farah aveva potuto racimolare Wamai non era figlio suo e non lo era mai stato per sua fortuna Giogona due giorni prima aveva già avuto venticinque delle quaranta pecore che gli spettavano altrimenti Canino solo per non patire a vedersele lì sotto gli occhi alla fattoria ora che non gli appartenevano più le avrebbe lasciate finire a nieri giogone giogone in ogni modo doveva stare attento perché i chicui o dinieri non cedono tanto facilmente si erano installati alla fattoria e minacciavano di portare il caso davanti al commissario del distretto così non fui sorpresa quando qualche giorno dopo quelli di nieri mi si presentarono davanti a casa chicui o di classe inferiore parevano tre vecchie iene sudici e iersute che avessero seguito 100 per 150 miglia strisciando la pista del sangue di Iwamai c'era anche giogona tutto agitato e afflitto l'atteggiamento delle due parti era tanto diverso probabilmente perché i chicui o dinieri non avevano nulla da perdere mentre giogona aveva 25 pecore i tre stranieri si sedettero sui sassi non davano maggior segno di vita che tre pidocchi addosso a una pecora non avevo simpatia per la loro causa comunque stessero le cose e non si erano mai curati del bambino finché era vivo mi dispiaceva invece per giogona che si era comportato bene al chiama e aveva credo sofferto molto della morte di Iwamai provai a interrogarlo ma tremava e sospirava in tal modo che non riuscivo a capire nulla delle sue risposte dovete rinunziare per il momento ma due giorni dopo giogona venne da me la mattina presto mentre stavo ancora battendo a macchina e mi chiese di scrivergli la storia dei suoi rapporti col bambino morto e con la famiglia di lui voleva presentarla al commissario distrettuale di Dagoretti la sua semplicità mi commosse le cose lo toccavano profondamente non era capace di nascondere le sue emozioni il passo che stava per compiere gli pareva evidentemente un'impresa grave pericolosa ci si accostava con rispetto la contentai ci volle tempo perché si trattava di scrivere un lungo resoconto di cose accadute più di sei anni prima ma è già complicata e di per se stesse rievocandole Giogona doveva interrompersi spesso per fare un passo indietro e rivedere o ricostruire un particolare dimenticato si teneva la testa fra le mani battendosi ogni tanto la cima con espressione grave quasi sperasse così di costringere i fatti a venire fuori una volta andò a mettersi con la faccia contro il muro come fanno le donne chicuiu quando partoriscono conserva ancora una copia del resoconto lo si seguiva con difficoltà pieno com'era di particolari insignificanti di descrizioni prolisse di episodi complicati non mi sorprendeva tanto che Giogona avesse dovuto spremersi il cervello quanto che fosse riuscito a ricordare tutto passo per passo cominciava così al tempo in cui Wawero Wamai di Niri stava per morire Natakakufa voleva morire dicono i suoi li aveva due mogli la prima aveva tre figlie e dopo la morte di Wawero prese un altro marito quanto alla seconda Wawero non aveva ancora finito di pagare la sua dote e doveva ancora due capri al padre di lei questa moglie fece uno sforzo eccessivo per sollevare una bracciata di legno ed ebbe un aborto e nessuno sapeva se avrebbe mai messo al mondo un altro figlio continuava sullo stesso tono trascinando il lettore in un fitto labirinto di parantele e di contratti chicuiu questa moglie aveva un bambino piccolo di nome Wamai in quel periodo era malato e si diceva che avesse il vaiolo Wawero voleva molto bene alla moglie e al bambino il suo grande tormento in punto di morte era di lasciarli senza protezione alcuna allora mandò a chiamare il suo amico Giogona Kaniaga che viveva poco lontano Giogona Kaniaga doveva a Wawero in quel periodo tre scellini per un paio di scarpe Wawero allora gli propose un accordo l'accordo era questo Giogona avrebbe preso la moglie e il figlio dell'amico morente e avrebbe pagato al padre di lei le due capre che ancora gli erano dovute per la dote della sposa da quel momento il resoconto non era altro che una lista delle spese sostenute da Giogona dopo l'adozione del piccolo sin dai primi giorni aveva dovuto comprargli una medicina molto costosa per curarlo spesso gli comprava anche del riso allo spaccio indiano perché il mais non bastava farlo crescere una volta il proprietario di una fattoria vicina aveva preteso cinque rupie sostenendo che Wawai aveva fatto affogare uno dei suoi tacchini nello stagno quest'ultima somma il povero Giogona dovette pagarla in contanti penando chissà quanto racimolarla era stato un tale colpo per lui che ancora gli scottava tornò a parlarne più di una volta col tempo lo si capiva da tutto il suo atteggiamento Giogona aveva finito per scordarsi che il bambino ora perduto non era suo per questo l'arrivo dei tre chicui odinieri e le loro pretese l'avevano scosso tanto tutte le persone veramente semplici come anche i contadini europei con loro gran cuore pare abbiano la vocazione l'istinto innato di accogliere i bambini ed amarli come figli propri quando finito il resoconto mi accinsi a leggere la voce alta Giogona si voltò dall'altra parte come per concentrarsi meglio ma appena lessi il suo nome mi mandò a chiamare il suo amico Giogona Cagnaga che abitava poco lontano si volse di colpo lanciandomi un'occhiata ardente e appassionata un'occhiata talmente esuberante di risa che mutò il vecchio in un ragazzo nel simbolo stesso della giovinezza quando poi arrivata in fondo rilessi il suo nome scritto in calce sotto l'impronta del suo pollice quello sguardo vivo e diretto riapparve ma più profondo e pacato con una con una nuova dignità uno sguardo come quello volse ad amo al signore quando egli lo plasmò dalla polvere e soffiò nelle sue narici il soffio della vita e l'uomo divenne un essere vivo io l'avevo creato e mostrato a se stesso giogona caniaga dall'anima immortale gli porsi il documento ed egli lo prese con bramosia e reverenza lo nascose sotto un lembo del mantello premendolo con la mano non poteva correre il rischio di perderlo poiché in esso era la sua anima e il documento era anche una prova della sua esistenza ecco una cosa compiuta da giogona caniaga una cosa che avrebbe esserbato il suo nome per sempre la carne era mutata in verbo e dimorava fra noi piena di grazie e verità il mondo della parola scritta si era aperto agli africani proprio in quel periodo volendo potevo rifare il cammino a ritroso e rivivere un brano della nostra storia il tempo in cui le lettere si erano rivelate allo stesso modo alla piccola gente dell'Europa in Danimarca era accaduto più di cento anni prima a sentire i racconti di quelli che erano già vecchissimi quando io ero bambina la reazione doveva essere stata quasi esattamente la stessa di rado gli esseri umani possono aver mostrato una devozione così umile ed estatica al principio dell'arte per l'arte le epistole che si scambiavano i giovani indigeni erano in genere composte da scrivani di professione infatti anche se qualche persona anziana si lasciava trascinare dallo spirito dei tempi e due o tre vecchi chi cui frequentavano la mia scuola sudando pazientemente sull'abbecedario la vecchia generazione si mostrava per lo più sprezzante di fronte al nuovo fenomeno solo pochi indigeni sapevano leggere servi scuoters e operai della fattoria venivano a farsi leggere le lettere da me cercavo di decifrarle una dopo l'altra meravigliandomi di trovarle ogni volta tanto insignificanti ma commettevo l'errore di tutte le persone civilizzate piene di pregiudizi sarebbe stato come volere catalogare il piccolo ramicello di olivo che la colomba riportò a Noè bello o brutto che fosse recava qualcosa di più importante dell'arca con tutti i suoi animali aveva in sé un nuovo mondo di verde le lettere degli indigeni erano molto simili l'una all'altra si attenevano strettamente a una formula sanzionata e sacra e dicevano tutte pressa poco così mio caro amico Kamao Morefu prenderò la penna in mano in senso metaforico perché chi prendeva la penna in mano era lo scrivano pubblico per scriverti una lettera perché da tempo desidero scriverti io sto bene e spero per grazia di Dio che anche tu stia benissimo mia madre sta bene mia moglie non sta molto bene ma spero ugualmente che stia bene la tua per grazia di Dio e qui seguiva una lunga lista di nomi ciascuno accompagnato da un breve resoconto di solito insignificante ma a volte estremamente fantasioso poi veniva la chiusa ora amico Kamao finisco questa lettera perché ho troppo poco tempo per scriverti il tuo amico duetti lori per recare messaggi non tanto di simili concepiti da giovani studiosi europei un secolo fa postiglioni balzavano in sella cavalli correvano al gran galoppo suonavano i corni della posta e si stampava carta con le filettature d'oro le lettere erano accolte con gioia amate e tenute da conto ne ho vista qualcuna anch'io quando ancora non conoscevo il suo ahili il mio rapporto con il mondo epistolare indigeno aveva un lato curioso potevo leggere quello che scrivevano senza capirne una sola parola il suo ahili non aveva una lingua scritta finché i bianchi non si incaricarono di crearne una si scriveva come si pronunciava lettera per lettera e non verano retaggi di antiche ortografie che potessero imbrogliare nella lettura leggevo quindi le loro lettere nel modo più ortodosso parola per parola e coloro a cui erano destinate ascoltavano col fiato sospeso intorno a me vedevo gli effetti di quello che leggevo senza sapere assolutamente cosa significasse ora alle mie parole scoppiavano in lacrime o si torcevano le mani ora gridavano di gioia la reazione più comune era il riso spesso stavano tutto il tempo piegati in due dal convulso in seguito quando arrivai a capire ciò che leggevo intuì l'efficacia drammatica delle notizie scritte un messaggio che riportato a voce sarebbe stato accolto con dubbio o con sarcasmo tutti gli indigeni sono profondamente scettici veniva accettato come verità del Vangelo nel discorso gli indigeni notano subito un errore provano un piacere maligno a rilevarlo e non se lo scordano più se un bianco prende una papera sono capaci di appioppargli un soprannome per tutta la vita se però come spesso accadeva data l'ignoranza degli scrivani c'era uno sbaglio nelle lettere essi insistevano a volerci trovare un senso a costo di rovinarsi le meningi pronti a credere la cosa più assurda piuttosto che ammettere un errore nella parola scritta in una lettera indirizzata a uno dei miei domestici c'era fra le altre notizie questo laconico messaggio ho cucinato un babbuino probabilmente voleva dire che aveva acchiappato un babbuino spiegai perché in sua hili le due parole si assomigliano ma il ragazzo non era affatto d'accordo no msabu no disse cosa ha scritto nella lettera cosa ha scritto ha scritto di aver cucinato un babbuino ammisi ma com'è possibile se così fosse avrebbe scritto qualcosa di più ti avrebbe detto come e perché l'ha cucinato la mia critica al sacro testo della scrittura mise in grande imbarazzo il giovane chicuiu volle indietro la sua lettera la piegò con gran cura e se ne andò col suo cimelio quanto ha reso conto che scrissi per Giogona gli fu molto utile quando il commissario distrettuale le beletto respinse tutti i reclami di quelli di Nieri che se ne tornarono al villaggio tetri e a mani vuote il documento divenne allora il più grande tesoro di Giogona ebbe occasione di rivederlo diverse volte Giogona gli aveva fatto una piccola borsa di cuoio ricamata e appesa al collo con una strisciolina di pelle ogni tanto in genere la domenica mattina compariva improvvisamente alla porta di casa mia e sollevando la borsa tirava fuori il foglio perché glielo leggessi un giorno scorgendomi da lontano uscivo per la prima volta a cavallo dopo una malattia mi corse dietro per un pezzo quando finalmente mi abbia raggiunta senza fiato mi presentò al suo documento ogni volta che lo sentiva leggere il suo viso prendeva la stessa espressione di profondo religioso trionfo quando avevo finito lo lisciava con amore lo piegava e lo rimetteva nella borsa l'importanza di quel foglietto non diminuiva ma aumentava col tempo come se la cosa più straordinaria per Giogona fosse ritrovarlo sempre uguale il passato che era stato tanto difficile rievocare e che probabilmente nella memoria appariva ogni volta diverso ora era afferrato riconquistato inchiodato davanti ai suoi occhi era diventato storia quel documento aveva vinto il fluttuare e l'ombra del mutamento il fluttuare il fluttuare Grazie a tutti